l'ecologia ma ci capisci che è? la green economy che dè? ma tu non sai dire? la green economy no ti amano a indefogna piano ah! non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è appunto, Sim, tu finiamo, non c'è, non c'è non c'è oh! 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 oh, che aveva ci fosse un'altra parte però, non c'è, non c'è visto che si voleva allargare le poste tanto valeva che ce ne aveva tutti le tante che stai a fare che il petrodismo fa' questa cazza di visione, non? tu devi ascoltare che è tutto coso sottoposto a Vigler o Vigler? che è? si trattano con un Allah Allah per il controllo no, perché lui ha il fornato che cosa vede? che, ha il fornato? il muro Una bella tenda è voluta blu, perché noi rompiamo questa, la tirammo. Ma si mette la mano a casa. Sai quanto tempo sta chiuso su di anni? Stai su, ci stanno facendo proprio dei vestiti. Non ti riga a te tirare il tuo cuore su terra. Non ti riga a te. Fio! Fio! Voi siete alla vicina della casa. Lei è una persona profonda. Si è tiravate. Ma perché non l'ho incontrato lei prima? Non lo so, dite un minuto, io che posso fare? Parlare! Non sono tanto brava a parlare. No, lei parla benissimo. Signora o signorina? Signorina! Cala la capa e mette la fatica! Cala la capa e fatica! Cala la capa e mette la fatica! Ma se sei buccio a capa cala, non potremo mai fare la capa! Cala la capa, cala la capa! Cala la capa! Cala la capa! Cala la capa! Cala la capa, mette la fatica! Cala la capa! Tu sei a giufiuti, può sembrare una follia, ma non è così! Cala la capa! Oggi sono questa faccia, questa carne e queste ossa Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano qui in là Dove si vive solo di uno sguardo E' tardi, si spetti la candela E' sempre troppo tardi, perché non tornerai Grazie